Ciao a tutti i GAMERS, benvenuti su Prela Channel, io sono Tietepreda, siamo tornati con DelsX, dall'ultima volta che ci siamo praticamente persi in questa stanza nel vuoto, ho costruito questo aggiuggino che ci serve per aiutarmi in quello che io so far meno, ovvero sbloccare che la sua organizzazione è pacifica e lotta per i diritti dei potenziali che il mondo è diventato a stile dei loro confronti, ma collato sul risanamento umano in discussione nei prossimi giorni alle Nazioni Unite è possibile che il dottore cambia approccio, vede un po' come andrà finire, qui è l'Isa Castano, l'informazione è un giugno che serve, lo cazzo, lo cazzo, Steam Accesso Sì perfetto, grande così, grande così, così, la cattiva delle stelle, è una minaccia alla nostra, per un giugno, per un giugno, per un giugno delle canere, è benvenuto, spiegando, grazie alle loro organizzazioni sui casi di junzione stanzione. posto praticamente ma di giro si chiama multifunzione un momento multifunzione ci aiuta a bloccare conto pare temporaneamente temporaneamente ci aiuta a bloccare cattura, cattura, cattura ma che giro dell'acqua devo fare? è impossibile, questo è impossibile ce lo rallenta non posso, no, un secondo schiacciato, ecco perché non funzionava allora aspetta, non usarlo qua, usalo qua, usalo qua che mi è finito allora questo ho sbloccato qualcuno qui questo devo sbloccarlo, adesso devo capire quando devo aspettare eccoci questo quanto pare disattiva le tipese quindi posso tranquillamente poi andare a schierare il tutto e poi dice ah no, c'è lo sblocco direttamente grande però ce l'abbiamo ok caller, ho il tuo calibratore neuroplastico ottimo preparerò tutto per quella procedura di ottimizzazione non appena avrò sistemato questa chiamata quale chiamata? ho un altro cliente non gli piace aspettare neppure a me caller chiamami quando sarei pronto eh, dai, su che abbiamo migliorato un po' da perle comunque siamo riusciti ma torniamo a un minuto in multifunzione che io voglio ahhh, ti puoi usare una volta sola ma no, assolutamente no ce l'ha scritto che era ce l'ha scritto che era compatibile con le biocelli per poterlo ricaricare non sembra strano e in multifunzione non c'è PQ vabbè, si puoi usare una volta sola a quanto fare puoi sbloccarlo così rapidamente scientist abbastanza scopa, eh psicologi, prose Bergamo contro cells scopa ma vero accesso consentito vabbè, scopo Take away unicraw ah, cosa hai da leggere segui spora vabbè, inscivere in paura ragazzi se vi interessa un po' tutta la storia Mettere in pausa e leggervi con calma C'era il codice qua dentro ma porca Devo imparare a leggere le cose Devo imparare a leggere le cose Vabbè niente non fa niente Uomo non è l'unico Scusa Scusate ma non ci gioco da non so quante settimane Ho un attimino abbandonato perché ho dei titoli personali Voi capite che quando il cavallo è morto non va fatto bene Prendo anche i miei spazi Mi giochi i miei giochi E poi quando c'è un attimo di tempo registro Sono consumabili Io ho fatto già calcio Questo Viano Vabbè a parte che non mi ricordo Il nostro obiettivo Anche se erano più obiettivi Diciamo dove siamo entrati Che non sia successo niente è tutto un D Scusi Lascia Sesamo Io questo me lo porto dentro Non si sa mai che venga Questo C'è un altro No la porto? Potremmo dire Aspetta rivederci Buongiorno Ok Dobbiamo tornare Spendiamo di un attimo gli obiettivi dove ci sta portando Piazza Piazza Cimice Piazza Cimice Piazza Cimice Non c'è rimasto più Niente Parla con Sari Andiamo a parlare con Sari Ciline Un corso Andiamo a parlare con Sari Che è dentro il suo pezzo Andiamo Vediamo 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 Alla fine Parla con Sari Non era tanto il parla con Sari Ma ci porta qua sotto Piazza Rialzare a Cis Vi ricordate Mi ha tifera a Cis Ma noi troviamo il posto E troviamo il posto Non ci va a proseguire Però E' che li portiamo Assolutamente Capete benissimo Non siamo Da demordere Però Portava tutto Sperificata Ad accesso Mi ha detto La città Nel mio posteggio Faccia capire Non capisco da che parte Cosa Non c'è No Non c'è Convocato Che ha detto Che è Che ha detto Qua Comenica Non c'era Non c'era bene I rischi Poi Come Sopra Poi Mettere Tutto E' lo solito problema Posso entrare adesso? Posso entrare il sedino? Hai capito? Sarà un modo, no? Posso entrare il gimmer? Lei è dall'altra parte della videocamera, c'è qualcuno? Non c'è questo problema Per qualche parte nelle foglie della città c'è un casino gestito dalla mafia Vorrei vedere di persona il luogo dell'attentato, ma... Sì, protesia... Qua dentro, dai... Ma mi scusi... Quindi, dai... I miei clienti... Ok, dai, dottogli obiettivi... Alex Vecca... Il mio contatto con il collettivo mi ha dato in un dispositivo di rerspoto Adesso io mi sono stimi sul nucleotide mio No... La soluzione rodevo entrare in una sala server dell'elsea Grazie a sto filtro mi spiega, sentimente io, come faccio, scusi, come faccio, che sta la cince, sentimente, ma qui vedremo un po' l'idea, come vedi la cartiglia, va, come vedi la cartiglia? devo parlare con il cortino, scusi, qua c'è la pagina del signore, la prima porta, come è la pagina del signore, scusi, scusi, metto, la te, la metto, la gente, no, non li usa i bagni, non intono, stavo dicendo, un bel casino, un bel casino, vengono i uomini, assolutamente uomini, e appunto, non uscirò mai a decidere, questo bene amato, coso, scusi, che ti vuoi, qua eh, un secondo, eh, via, ti sei qui, qua, ci moriamo, eh, guardate quanta roba che ho, che c'è, guardate, che c'è, la p&g, Italia, 알�rid, allora pensi a ci faremi riuscire, cosa… non ussei, non esatto… non pieno, il codice, no… magari non abges celular… Badento proprio vedi mai… faccio un botto di roba ragazzi, più patio... hypothesis… ci doveva computer, se nel computer è… Proviamo? Proviamo? Proviamo a muocere Proviamo a muocere A continuare? Vi avviciniamo Allora, l'ho fatto di andare Allora, il mio canale è un po' di mare Ricorre, Rebalto E al 80% Mi scurri Non dico niente però eh Sto cedendo, mi scurri Non è per cattiveria Ma la di chiama il pietro Ci sono guidati Intanto rispettiamo qui con quest'altro. Questo non si può violare. Questo non si può violare. Ho tutto qua in blu. Il primo è da qua. Viola, viola, viola. L'abbiamo visto. Non ce la facciamo. La guida è già bene. Ah, giustica dei nodi, ricompense. Puoi giocare da studi. Proviamo un attimo a giocare da studi. Studi e sedi. Vedete? Qui ha partito. Ok. 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 Anomani arriva. Tracciamento avviato. Avviato. Ai gacchio. сторону. Non è la prima... Sì. Grande cosiii. Mi dobbiamo anche la mosca. Guarda. Guarda. Siamo proprio dei... Eh? Vedete cosa siete? Guarda. 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 Grande cosiii. Guarda. 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 e dai facciamo un po', blocca, blocca al disegnere ho l'inventario pieno con un po' qui lei? lei non dice? ah, non ce l'ha fatto al granato, vi lascio lì un secondo andate qua, vi è sbloccato, ricordiamo non lo capiremo meglio non lo capiremo meglio non lo capiremo meglio come si gioca dove sono non lo capiremo vado, vado, vado vado, vado, vado vado, vado ok, non c'è più niente qua giusto? ah, questo è... ahia, no no no, battene, battene non sbagliate mostri sbagliate, sbagliate non fa niente comunque, noi siamo sempre siamo sempre al solito fuggito che dobbiamo accedere assolutamente qui qui qua non c'era niente ma che mi aspira è che per questo appuntamento è tutto io intanto cercherò fuori onda ovviamente di capire come si entra indietro il pesserino mi raccomando mi raccomando se mi piaccia di seguire per oggi è stata una via che mi raccomando mi raccomando mi raccomando lo gioco man mano con voi quindi mi raccomando